Sottotiro il PD sul Monese all'indomani della caduta dell'amministrazione Ranalli. Il consigliere comunale uscente di Pronti per Cambiare, Valerio Gianandrea, stringe la mano al segretario regionale DEDEM, Marco Rapino, che in queste ore sostiene Gianandrea, sta facendo un ottimo lavoro e sta portando avanti un'azione di ripulitura per rimuovere le vecchie logiche, i vecchi personaggi e restituire un volto nuovo al partito. Noi come gruppo e come amministratori uscenti siamo a sua completa disposizione, annuncia l'ex consigliere. Il segretario regionale sta facendo un ottimo lavoro per cercare di ripulire il Partito Democratico dalle vecchie logiche, dai vecchi personalismi e dai vecchi personaggi. Noi come gruppo e come amministratori uscenti siamo a sua totale disposizione per rilanciare finalmente un nuovo volto al Partito Democratico e con lui ovviamente collaboreremo qualora ci chiedesse la nostra disponibilità. Secondo Gianandrea la sconfitta politica più grande di questa amministrazione è proprio il PD. Due consiglieri di maggioranza fra gli altri hanno decretato la fine della loro amministrazione dopo essersi battuti e aver costruito la stessa, fa notare. I consiglieri di maggioranza hanno contribuito a decretare la fine della loro stessa amministrazione che loro stessi hanno costruito. Sulla fine anticipata del mandato di Peppino Ranalli Gianandrea ha voluto ribadire come questa amministrazione ha fatto un grande lavoro troppo spesso in maniera poco evidente. Credo che chi si candida debba essere giudicato dalla città al termine del quinquennio amministrativo ma quando per ragioni personali o per altre motivazioni un'amministrazione viene meno questo giudizio non ci può essere chiosa il consigliere uscente.